È bello essere qua per fare in modo che sia Natale per tutti, anche per i bimbi meno fortunati che lo passeranno in ospedale. È il quindicesimo anno che con le ragazze e i ragazzi della Lega veniamo all'ospedale dei bambini al Buzzi per portare i regali ai bimbi che con le mamme, con i papà o magari da soli passeranno la notte di Natale. Uno degli ospedali più incredibili e in crescita, peraltro, di tutta Italia. È una tradizione che mi vede assolutamente contento di prendere parte. Ci sono circa 25 bimbi che passeranno la sera di Natale e per loro il papà o Natale comunque arriva, anche se sono in un letto di Natale dei Buzzi. Al Buzzi poi sono particolarmente affezionato, anche perché qua c'è il centro Aiuta la Vita dell'ospedale Buzzi, grazie ai cui volontari sono nati duemila bambini. Quindi in un momento in cui tanti parlano di denatalità, aiutare le mamme a diventare le mamme, a scegliere la vita, è qualcosa di importante. Quindi ringrazio i volontari dei centri Aiuta la Vita di tutta Italia.